ninja mandiamo un video a antonio prendi il lamborghini che ti ho comprato la biga è il lamborghini accendi il lamborghini e falli sentire falli sentire il motore falli sentire il motore motore e allora accelera la marmitta la marmitta accelera ho detto accelera accelera falli sentire antonio accelera accelera marmitta accelera 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 ok spegni il motore spegni il motore accendi il motore ok spegni il motore accendi il motore lamborghini 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 ok 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 a posto a posto dimmi una cosa se i ragazzi a napoli sbagliano le scatole sbagliano le scatole ok dire lo antonio ok basta basta a